È ottimista su una fiction in Veneto? C'è questa possibilità? La pensa come una possibilità reale? Anche più di una se è per questo. Diciamo che il Veneto per il momento è stato molto poco sfruttato a livello di fiction, non soltanto per quanto riguarda Venezia, ma anche per quanto riguarda altre bellezze artistiche e naturali che ha in tutta la regione. Per quanto riguarda Venezia, il discorso fondamentale sono i costi produttivi di girare a Venezia e su questo bisogna ovviamente trovare una via d'intesa. Negli altri luoghi bisogna trovare ovviamente quelli che sono gli interessi della regione a avere la fiction come volano per altri generi di attività che siano turistiche, che siano imprenditoriali, che siano comunque legate al territorio. Credo che ci siano tutte le condizioni, sia artistiche che ambientali, per poter andare avanti. Quindi quello di oggi è un incontro che getta le basi per questo progetto con la regione Veneto? Assolutamente sì, assolutamente così. Diciamo che ci sono già basi, idee, iniziative, si tratta di doverne realtà.